ciao benvenuto a questo nuovo video dal progetto vita sana oggi parleremo di un argomento che sta a cuore alla maggioranza delle donne di ogni età la cellulite un problema che pensa coinvolge 24 milioni di donne italiane un fenomeno fisiologico con molte cause spesso la cellulite è associata ad accumulo adiposo che può aumentare il rischio cardiovascolare per giustificare la cellulite sono state ipotizzate diverse cause la cellulite può essere indotta anche dalla vita sedentaria l'alimentazione scorretta con troppi sale lo stress la cellulite si evolve in tre stadi e può essere di vari tipi come puoi affrontare questo inestetismo così diffuso metti in tavola verdure di tutti i colori bevi molta acqua regala al tuo organismo un periodo disintossicante con tisane bevande drenanti naturalmente massaggi localizzati con creme riducenti e manipoli ad infrarossi sono utilissimi in sintesi la cellulite va affrontata ad ampio spettro disintossicando drenando attivando la riduzione dei grassi grazie a questa sinergia avrai non solo una pelle più bella ma anche un notevole contributo al benessere generale grazie per essere stato con noi e arrivederci al prossimo video del team progetto vita sana ciao 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 ciao